Siamo aperti il 15 e il 16, il 22 e il 23, il 29 e il 30 di ottobre, quindi tre fine settimana. Oggi, sabato 15 e domani, domenica 16, avremo la possibilità di mostrare le nuove torri, la Pila 1 e Pila 2, realizzate dall'architetto Italo Rota e che servono come accessi per il Palazzo del Podestà e il Palazzo della Ragione. È una visita straordinaria, un punto di vista su Piazza delle Erbe, ma anche un'immersione in una sorta di scenografia cinematografica che riporta a un futuro e a un passato nello stesso momento, con la possibilità di visitare e di vedere da vicino appunto gli apparati murari e le decorazioni a fresco che sono conservate sui due edifici. Oggi pomeriggio partiranno anche i due, il primo oggi e il secondo domani, le due visite alla forte di Pietole partendo dall'ingresso dei giardini del Bosco Virgiliano. Anche lì una visita speciale solo questo sabato e questa domenica. Vi aspettiamo per le vie dei tesori sabato 15 e domenica 16 ottobre.